E ben a tutti ragazzi sono io, oggi sono FigaGamer, sono tornato in una crossbar challenge Questo qua è lo speciale 5 iscritti, sono con FiloGamer e JammaGamer Bella, sono Filo, Bella e Jamma Scrivi al loro canale, iscrivi al canale della crew, facciamo 4 rettettive test La crew sarà sotto in descrizione al mio canale come tutti i video che farò Sotto in descrizione, mi raccomando, sotto in descrizione Prova il tiro ma non ce la fa perché manca quel pelo 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 E' il turno di JammaGamer, attenzione ragazzuoli JammaGamer che cerca di fare Brava, mettiti qua Veloce, veloce Attenzione JammaGamer, presto al tiro Corri, corri Forrest, corri Forrest, Forrest, corri Attenzione JammaGamer porta palla, facciamo cambio registro Vi ringrazio di cuore per qualsiasi iscritti, siamo ieri a 54 in realtà Guarda è basso rega Dai Male, primo rettettivo è andato Schifo ragazzi, schifo Datti il mio cellulare, è importantissimo Dai Il cellulare vince Il cellulare è vita No, te devi gore, quindi no Lo lascio qui Lo ammollo qua Tutto di PikaGamer, Alessandro, attenzione PikaGamer Palo Via, corri Schifo ragazzi, ma se non si fa la traversa, non è traversa, non si fa niente Ragazzi, la frequenza, incredibile, indicherà il punto della vittoria A me, ho vinto Ragazzi, non ci chiede il palo Ah, palo in croce non valgono e non disescrivete la tale di JammaGamer Hashtag JammaGamer c'è Prodo al tiro Niente, vai, raccattapalle Dai, dai, forse Tocca a me, sai che devi, eh Ragazzi, un cambio di registro è tatticissimo Secondo entro per una pippa assurda Non durerà molto, rega, sta Grossbar Perché abbiamo quattro tentative a testa Minimo quattro, cinque minuti durerà Dai Dai, filo che Tipo è la terza volta che registriamo solito perché rega mi stanno a chiamare Quindi Intervista su JammaGamer E... ciao, sì FiloGamer Va e va fuori Posso fare un tiro? Dopo Terzo tentativo, penultimo tentativo per Pito Cioè, rega La terza Righissima Rega, è la terza volta che Sto facendo Sempre allo stesso punto Ditemi come si riega perché È vero, sto spesso, ciao Pronti, iniziamo subito Attenzione No Tu non è JammaGamer Attento JammaGamer, cioè PitoGamer Alessandro Tenta il tiro, niente Fuori Tu non è JammaGamer Quella è l'acqua della vita RegaGamer, lei vuole dire qualcosa per commento? No, facciamo dopo alla fine Commentari dopo Ragazzi Se volete riega, scambi C'è l'acqua qua con noi Una bella sorzata via No JammaGamer Tira fuori Fuori, mi spiace Fuori Tu, Reggio Bianca, vai fuori Fuori, fuori, fuorissimo Bianca, corri Facci io Vai, vai, vai Dai, è vero, è vero, è vero, tocca a me Ragazzi Ora, prenderò Atraverso Te lo giuro Te lo giuro Puoi prendere sta cosa? Rega, diciamo un video Perché voglio farvi lo speciale Quindi lo sto portando così Dopo uscirà il video sul canale di FiloGamer E tu mi ti insegni a mettere i cosi in descrizione perché io non so capace Rega Per ultimo dettativo anche per FiloGamer Alessandro, facciamo fare l'altro video Sì No Tu, Reggio, adesso, per favore Niente ragazzi Si passa Ancora a me ma Niente No, no Vedete ragazzi Ce la farò male Intanto probabilmente sì E se in caso del pareggio Mi perso di uscire la crossbar Ce la vedete di me ma con un altro pallone Perché questo è duro come un sasso E niente Finirà con la vita Non lo ria, FiloGamer Facciamo misura La punizione challenge Sul canale Su Ragazzi Facciamo quella là E magari facciamo l'ultimo tiro Per la crossbar Tieni Fili Se no adesso faccio Se no la Guardi, su un attimo io Sì, attenta con la schiaccia No Tu hai tirato No Non ha tirato No Regà, ce l'ha dato di punta Ha preso Con parola Scusate Lui, FiloGamer E che tira la palla lì Dai, facciamo 5 tentativi in totale Dai, 5, 5 Dai, fammi riprendere Fili, FiloGamer Lui, FiloGamer Passa e vada Regà, ho preso quella Magnifica Ma magnifica Perché non metto a fuoco? Ok, messo Quella magnifica attraverso è mia Facciamo 5 tentativi Dai L'ha presa Eh, Fili Se tu non la prendi Io tu fai l'ultimo Con Gianmarco FiloGamer GiamaGamer PicoGamer Tutto conta su E mia sorella Ragazzi, tocca solamente A FiloGamer Se non la prendi Per FiloGamer È finita qua Attenzione Può preparare le valigie Andassene E, e, e Guardate la palla Come para Come para Vai Vai, GiamaGamer FiloGamer E se tira Abbiamo il lancio Fili, fili L'ha presa Dai, registra Si rifà Vai, l'ultimo dettativo Ti hai, registra C'è, raga C'è, 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 c'è L'ansia Quella che ti sfrutta Le capacità L'ultimo dettativo Per tutti E poi finisce la buona Fermati Prova Alessandro Pica O Pica Che mi hai detto? Ancora no Mi l'ho presa L'hai presa L'hai presa A dire qualcosa Il signor Mi è scurato Ragazzi Pica Gamer Dopo questa Prende la traversa Crossbar Penso che Quella traversa L'arma è mia Perché Loro non penso La riprenderanno Se la riprendere Camerato Chiudo il video La ripresa Vai, mettiti là Mi dovete registrare Di fare l'ultimo Di fare l'ultimo Di rete Eh ragazzi Che ne dite Raga in poche parole Questa qua Durerà ancora Perché Perché Sono tutta Spicata Adesso Dai Sfiri carichi Che se no Poi ci chiamano Corri In poche Allora Raga Mettere caso Mi chiamano Il telefono Perdo il video Quindi Vi faremo sapere Nel prossimo video Come finisce Se Quindi Iscrivetevi al canale Tutta la crew Il filo gamer E giamba gamer Lasciate 8 light Ragazzi Ragazzi Ancora una volta Colpisce Mi raccomando Ragazzi Attenzione Il tiro decisivo Di Alessandro Pica Niente Forse Alessandro Pica Ho detto Pica gamer Forse può essere Eliminato No Perché se voi Dove la prendete Dove per continuare Sì ma Se io Se uno di noi Dove la prende Ha vinto Ragazzi I canali della crew Saranno tutti Sotto in descrizione Del mio O del suo canale Perché insegno Come mettere in descrizione Io farò Ciao Vabbè Nel per Uscirà un altro video Dopo Attenzione Ragazzi Tiro decisivo Il mio Tiro decisivo Il mio Attenzione No no Il mio Pica gamer Tiro decisivo Per me Ragazzi Mi chiamo Il video Vai Lascialo Dai dai Che dobbiamo fare Altri video Poi Eh Sul tuo canale Tiro decisivo No No Non quadra solo Atraverso Dai Sì Sì Si continua Si continua Va per una palla No 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 Se la prendo È finita qui Eh Niente No Si si Ora chi la prende Finisce così No Non vuol di niente Perché il giro Inizierà Dobbiamo concludere Sempre il giro No Cioè Ragazzi Tanta roba Ma tanta tanta roba Chi lo game è Fermati Attenzione Pronti Pronti Niente Non c'è Adesso Non va Forse Sarai eliminato È lo scoop Della settimana Chi lo sa Dai dai Giama Ragazzi Ho trovato Dele nuove serie Da fare Sul cane Anche di Pia Sono troppo forte Ce l'ho fatta Adesso Ne diamo Perché quello Comun cane Giama Game Tipo Dove durò pochissimo Posso vincere Fino a che uno Non prende la traversa Esatto Basta che la prendo Io ho vinto Cioè raga Noi abbiamo preso Due traversi Aspettate Ecco Due traversi di fila Due traversi di fila Raga Speriamo che non mi chiamano Raga Se no Seguito così Il video Vai Palla Vedi di farcela No Ho preso No Vai Giama Vabbia palla Filo che è me A te A te l'onore Ragazzi No ho sbagliato Ho girato tipo lo schermo Ragazzi Serve molto più potenza Ora Esattamente Siamo a 9 minuti e 53 secondi Pica gamer Dai Siamo a quasi 10 minuti E se non Non si sa niente Finisce qui Pica gamer Pica gamer fa fail Perché se vuole Adesso è giusto la palla E poi non è sexy Niente Pica gamer Ci entra il buco della porta In cui è bucata No io non ce la faccio Vai E siamo pronti per il tiro Di giamma gamer Lì Eh Non l'hai presa Lo sai È troppo lento Esatto C'è Poi scienze Il soggetto di Ciamma gamer Eccoci raga Scusate Sto facendo un po' di tagli Nel momento Di ciamma gamer Siamo C'è raga Siamo desolati In questo Nella valle Vai Ok ragazzi Ok ragazzi Tieni Ciamma gamer Registra Filo Di me Attenzione ragazzi Vai Ok ragazzi Ragazzi Il video è continuato Scusate Il video è stato